Oggi parliamo di un argomento un po' più leggero. Nel video precedente mi avete chiesto di parlare ancora di profumi, quindi vedo che è un argomento che vi piace. Ovviamente continuerò a parlare anche sul mio canale di altro, condividere la mia esperienza anche interiore, ma ogni tanto un video così un po' più leggero anche sull'ambito esteriore o comunque anche sull'arte, perché alla fine i profumi sono arte, e siccome c'è caldissimo, sta arrivando l'estate, mi avete chiesto i profumi per l'estate. Partiamo dal presupposto che questa è una mia opinione, quindi questi profumi sono quelli che secondo me sono i migliori, sono di nicchia praticamente tutti, ma ne ho aggiunti 5 commerciali, quindi trovabili, anche nelle profumerie tradizionali. Però questi sono quelli che utilizzerò io per la maggior parte del tempo e se trovo il link ve li lascio in descrizione volentieri. Partiamo subito, il primo è un profumo di Loran Mazzone, e questo penso che sia uno dei profumi più buoni, più freschi, più puliti, più semplici mai stati fatti, soprattutto per il giorno, per la stagione estiva, quindi tutti questi profumi sono sia, ok, estivi, ma un profumo estivo di solito è un profumo fresco, che comunque si può utilizzare tendenzialmente di giorno, tendenzialmente per l'ufficio, per la scuola, per tutte quelle situazioni anche indoor, quindi che non sono troppo forti, neanche troppo caldi, neanche troppo speziati, sono una via di mezzo, tendenzialmente fresca, un po' citrusy, e questo è particolarmente peperino, ma fresco, acqua zenzero, sa proprio di questo zenzero, però non immaginatevi quello zenzero, proprio zenzero, ma più una quasi, non so, un po' sparkly, ecco. Quindi quest'acqua, un po' come quando mettete acqua e limone con un pizzicolino di zenzero in un tè freddo, dà un po' quella sensazione lì, non è per niente dolce, è molto, molto dissetante, ecco come profumo. Io lo metto spesso, mi sta dando molte soddisfazioni, un po' frizzantino. Un altro, e non è una top ten, semplicemente ve li menziono, è Pantheon Roma, ed è A. Questo è un profumo che è ispirato a questo elefante bianco, quindi dovrebbe essere comunque un po' più dolce, un po' più terroso, un po' diverso, e in effetti non è il classico profumo estivo, però siccome d'estate si esce anche alla sera, io per uscire alla sera di solito utilizzo questo, a parte altre cose, ma d'estate mi piace questo, perché comunque è luminoso, è dorato, è fresco, è un po' tropicale, dà un po' quell'effetto lì, mi piace molto e lo aggiungo sempre. Continuando invece su una linea per il giorno, c'è il nuovo profumo di Liquid Imaginaire, io ho fatto mille eventi in cui l'hanno esposto 150.000 volte, l'hanno presentato, quindi ormai lo conosco a memoria, ma mamma mia è buonissimo, questo è basato proprio su, mi piace molto il brand Liquid Imaginaire, perché vanno a prendere proprio tutte quelle note che vengono utilizzate poco, e comunque sono iper evocativi, quindi danno proprio una situazione. E questo sa un po' quasi di un aperitivo, c'è il pompelmo, è succoso, è rosso, è molto, un po' fruttato, ma un fruttato naturale, un po' speziato, c'è quel pepe, non so ragazzi, provatelo, è molto buono e si sente anche un bel po'. Non tanto quanto ha, però si sente, ha è quello che si sente di più. Un altro invece è sempre nella stessa direzione, Boys 1920. Questo si chiama Oltremare e appena io l'ho sentito la prima volta ho detto questo profumo è il profumo delle nesti, sa di nesti al limone. Ma di cosa stiamo parlando? È buonissimo, io me ne sono innamorato, mi piacciono un sacco le cose che sanno di odori o di cose naturali, cioè di cibo o di cose naturali, e questo qua non ha niente di marino in realtà, anche se quando l'ho fatto provare ad un ambrogio o ad altre persone, mi dicevano che per loro sa di qualcosa di strano, tipo di erba, di campi, a me non ha dato assolutamente questo effetto, e il mio naso, fidatevi, funziona bene, è allenato, a me sa letteralmente di nesti, sa proprio di fresco, di cocktail sul mare, basta. Purtroppo non dura tantissimo, ma ci sta, un po' come tutti questi profumi, alla fine non sono fatti per durare tantissimo, ce lo si spruzza così al volo per andare in spiaggia o lo uscire alla sera e via. Un altro invece più per la sera è questo qua di Stefano Berluca, ed è God of Fire. Questo invece è iper, a differenza di quello che suggerisce il nome, è frizzantino, è un cocktail sulla spiaggia, è ispirato questa figura di questo dio del fuoco, ma in realtà è molto sparkly, anche questo però è fruttato, tropicale, è un po' più dolce degli altri, un po' più piaccione, però mi piace molto, dura tanto, e questo riceve tanti complimenti. A proposito di complimenti, questo qua di Lorenzo Pazzaglia si chiama Sex Sea, è un estratto di profumo, questo è quello che secondo me forse dura di più tra tutti quelli che ho, si sente di più, è un po' più marino, è un po' più salato, ecco se vogliamo dare un po' l'idea di sempre cocktail sulla spiaggia, però più mare, metteteci tanto mare, c'è anche questo tipo, penso sia menta o qualcosa del genere, che dà questa idea un po' più fredda, ecco, ma io non so per quale motivo ogni volta che lo metto qualcuno mi fa un complimento, pazzesco. Ho gli ultimi tre, mi sembra, e poi proseguo con quelli commerciali, questo è Kajal Lamar, anche questo con complimenti non scherza, questo è pulito, è fresco, è un po' più arabbeggiante, ma in un senso bagnato, in un senso arabo, in un senso naturale, c'è questa rosa, questi fiori, questi frutti, è un'oasi dorata che a me piace tantissimo indossarmi, anche sentirla a volte da solo, proprio prima di andare a letto, mi piace come odore ed è molto rinfrescante, lo consiglio anche questo. Un altro profumo, e non ce l'ho anche questo qui perché l'ho lasciato da un'altra parte, è il profumo Wulong Cha, quando sono stato in Giappone a Tokyo ero entrato in questa profumeria in cui era un po' la profumeria maggiore di Tokyo, diciamo quella catena dove la maggior parte delle persone vanno, e loro hanno questa top 10, proprio esposta, con 1, 2, 3, 4, con il numerino attaccato, dei profumi più venduti, e i giapponesi, come tutti gli asiatici, non sono amanti dei profumi forti, e quindi sono profumi un po' più intimi che rispettano il prossimo, gli spazi altrui. E il profumo numero uno era un profumo di Nishan, che mi è piaciuto tantissimo, e si chiama Wulong Cha, ed è un tè, diciamo un tè verde praticamente, un tè tipico cinese. Mi è piaciuto tantissimo, iperfresco, lo uso tanto d'estate, proprio rinfrescante, un po' asiatico, io lo associo anche al Giappone, quindi mi piace, e lo volevo aggiungere perché lo utilizzo molto. E gli ultimi due sono un po' un bonus, ma io veramente andrò a indossarli, non mi importa quello che pensate, sono due profumi di influencer, però io li metto lo stesso perché mi piacciono tantissimo, e sono i profumi di Jeremy e il profumo di Alex, Fragrance One Office, questo è il mio profumo più complimentato in assoluto, di Jeremy Fragrance, fui il primo a fare la recensione di questo profumo ancora anni fa, quando il mio canale era in inglese e parlavo soprattutto di profumi, e tuttora è un profumo perfetto per l'ufficio, 10 su 10 le performance, 10 su 10 complimenti, creatività, 0 su 10, però è un DNA che funziona, è stato bravo, non c'è niente da fare, come lui, molto tedesco, un profumo che funziona. Adesso è un po' più pazzo, più che tedesco, ma è un profumo che vale tantissimo e funziona bene. Citro d'ora, questo invece è un profumo che io indosso perché mi piace tanto, a parte che io lo associo molto a tutte quelle situazioni in cui ho incontrato Alex, quindi l'ho un po' associato al mondo della profumeria, al mondo dei profumi di nicchia, quindi quando lo metto mi dà proprio delle belle vibe, ma è proprio luminoso, dissetante, giusto per l'estate, e ha questa verbena che dovrebbe un po' rappresentare questa luce della luna, in una foresta, con questa bruma un po' bagnata, in un ambiente un po' mistico, e in realtà per me e per l'estate è perfetto, è qualcosa che proprio spruzzi, non dura tantissimo, ma è iper rinfrescante, sono quei profumi che ti spruzzi, sono proprio, come dice lui, Goddor, sono proprio rinfrescanti, quindi lo indosso sempre nella mia rotazione nei momenti caldi. E ora invece vi do i cinque che sono tradizionali, quindi profumi commerciali. Primo è Acqua di Gio, classico Acqua di Gio, questo va bene per qualsiasi momento dell'anno, però diciamo che se volete prendere uno per l'estate è perfetto, per l'ufficio, per l'estate, serio, mascolino, forte, sa di papà, sa di giacca e cravatta, perfetto, non sbagliate. Se volete la versione profonda, va bene, meglio ancora per l'estate. Poi c'è Versace Dylan Blue, molto velocemente, anche questo, dura tantissimo, si sente tanto, crea questa bolla blu di attenzione, è un po' più salatino, un po' più dolce, però è un po' più piaccione, forse un po' più per la sera a confronto all'altro, però allo stesso tempo anche questo è iperversatile, da mettere tutto l'anno. Il terzo invece è più perfetto per l'ufficio Prada L'Homme, questo è proprio da giacca e cravatta, da una situazione un po' più formale, però per l'estate è perfetto, perché ha questo iris fresco che dà una sensazione un po' shower, un po' di dopo barba, e gli altri due al momento non li ho qui, ma sono Chanel Blue, Blue de Chanel, e Dolce & Gabbana Light Blue. Dolce & Gabbana Light Blue va bene per qualsiasi momento, anche per la spiaggia, per qualsiasi situazione, è un proprio profumo fresco, estivo, che sa di Mediterraneo, va bene per tutto. e invece per Blue de Chanel è un profumo che va meglio un po' per tutto l'anno, ma va bene anche per la sera, riesce ad avere quella resistenza, quelle performance anche per la sera, un po' più misterioso, un po' più da teenager forse, però può essere anche messo in una situazione un po' più formale. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio il link in descrizione di questi profumi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram e iscrivetevi. Ciao ragazzi!